Bella a tutti ragazzi, io sono Simian e oggi come avrete già capito dal titolo andremo a parlare dei Saiyan leggendari di Dragon Ball F quelle famose fan art che tutti vedevamo da piccoli, di cui non sapevamo, sapevamo che poteva essere Goku così come sapevamo che poteva non esserlo comunque oggi ne andremo a parlare e andrò ad analizzarvi tutte queste fan art che ho trovato in giro su cui ho indagato per scoprire chi sono in realtà iniziamo a questa fan art, allora in molti mi diranno ma è Zyko, tutti lo conoscono, non è Zyko, lui è Goku Super Saiyan 9 sì perché ragazzi il Super Saiyan 9 è letteralmente Zyko però con gli occhi rossi e qualcuno mi può dire ma l'hanno copiata a Toyotaro no, Toyotaro ha copiato a loro poiché l'immagine del Super Saiyan 9 uscì su DragonballFP.net nel 2003 e la storia di Dragon Ball F c'era dal 2004 e che finì cronologicamente nel 2007 quindi in realtà Zyko sì è stata la prima saga però fu Toyotaro a copiare la prima saga di Zyko così come vi ho già detto ma ne parlerò meglio in un prossimo video e come vi ho già detto appunto lui è Goku Super Saiyan 9 l'immagine sotto c'è scritto DragonballFP.net quindi è presumibile fu stata creata per quel sito e questa immagine era già in circolo nel lontano 2003 di sicuro Zyko si steva già nella mente di coloro che hanno scritto e hanno disegnato questa immagine visto che il Super Saiyan 9 si ottiene tramite Zyko però lasciamo questo per un altro video andiamo ora avanti con un'altra trasformazione che molti avranno visto questo è il Super Saiyan Omega rinominato così dai creatori, cioè dai modder di Dragon Ball Butokai Tenkae C3 infatti questo non è un Super Saiyan esistente in Dragon Ball F però è un Super Saiyan che praticamente era una delle immagini che era in giro per il Super Saiyan di sesto livello infatti all'epoca quando scrissero Dragon Ball F ancora non avevano in mente come era il Super Saiyan di sesto livello e ci fecero diverse bozze tra cui alcune immagini che andremo a vedere dopo e comunque questa immagine fu scartata però rimase nel web appunto e fu rinominata poi dai modder di Tenkae G3 Super Saiyan Omega questo che state vedendo è il Super Saiyan di undicesimo livello si ragazzi questo è il Super Saiyan di undicesimo livello dopo il Super Saiyan di dacimo livello comunque il Super Saiyan di sesto livello è lo stesso che vedete nella mia serie di Dragon Ball F mentre il Super Saiyan di dacimo livello è lo stesso su cui ci ho fatto il video praticamente e si ottiene il Super Saiyan di undicesimo livello nello stesso modo solo che è più debole del Super Saiyan 10 però ha sempre il potere proibito e lo stesso rischio e ragazzi questo appare anche nella serie di Joseph come Goku Demone Oscuro non so per chi si ricorda chi ha seguito la serie di Dragon Ball F di Joseph e no non è così però le mod dei Shadow Demons sono state create sulla base di questa immagine infatti se vedete questo Goku è pressoché uguale solo che ha i capelli dorati come se fosse Super Saiyan questo ci fa capire che ha due forme ovvero la forma contenuta è la forma libera quando appunto i capelli diventano dorati perché per il resto è uguale alla forma dei Shadow Demons delle mod di Xenoverse 2 andiamo a questa immagine qui sotto ci vedete scritto Goku Super Saiyan 5 ed è vero poiché nei primi anni del 2000 quando ancora si ipotizzava su Super Saiyan di quinto livello visto che ognuno lo creava a modo suo Goku fu creato in questo modo da alcuni utenti come Super Saiyan di quinto livello secondo loro questi due che vedete come già saprete sono il Super Saiyan infinito 20.000 in giro però alcuni che fanno video sulle varie forme Goku e Vegeta dicono che uno è il Super Saiyan 50 o 100 o 1000 mentre l'altro è il Super Saiyan 20 no, questi sono il Super Saiyan infinito 20.000 vi ricordo che ci ho fatto pure un video ve lo lascio qua sotto nella descrizione questa immagine che può sembrare rappresentare per alcuni Goku Super Saiyan 5 per altri un Super Saiyan 7 ipotetico visto che è simile al Super Saiyan 7 non è così ma è praticamente Goku Super Saiyan 16 sì perché tra le tante fanfic che continuano dopo la saga Isel Buser la fanfic del fanfic succede che Goku arriva a combattere contro un nemico chiamato Tengu che è il nemico del Super Saiyan 16 e il Super Saiyan 16 è conosciuto per essere chiamata la trasformazione vivente proprio cioè letteralmente ha una vita sua e quando tu ti trasformi non puoi controllarti perché è la trasformazione stessa che prende vita nel tuo corpo quindi la trasformazione fa un po' quello che vuole ora andiamo a questa immagine in molti non la conosceranno ma questa fu una prima bozza di come doveva essere Trunks Super Saiyan di ottavo livello infatti all'inizio il Super Saiyan 8 era stato pensato anche così cioè con i capelli rossi e lunghi del Super Saiyan 3 ma alla fine è uscito un altro Super Saiyan 8 che vedrete vi preannuncio nella prossima nel prossimo episodio di Dragon Ball F la mia serie ora andiamo a loro due questa è un'elefanfic più bella a mio parere anche perché è fatta un italiano in Dragon Ball F furono usati come Goku e Vegeta Super Saiyan Mystic 4 una trasformazione che supera il Super Saiyan 10 addirittura però in realtà loro comparirono su DeviantArt nel lontano 2004 creati da un italiano chiamati letteralmente Goku Super Saiyan di quinto livello e Vegeta Super Saiyan di sesto livello ovviamente Super Saiyan 6 divenne famoso anche con l'uscita di Battle of Gods in quanto in molti crederono che Goku andasse in quella forma e comunque vi ricordo che queste sono altre bozze che i creatori di Dragon Ball F spagnoli sui siti usavano bozze appunto che proprio poi furono scartate per Dragon Ball F ma andiamo avanti ora però andiamo avanti con un'altra bozza bella che questa fu una delle bozze del Super Saiyan di undicesimo livello Goku in Super Saiyan di undicesimo livello vi presento non è questo ma è quello che vi avevo detto prima essere Super Saiyan in undicesimo livello ma questa è appunto una delle prime bozze che vedeva Goku Super Saiyan 10 andare in Super Saiyan e quindi creare il Super Saiyan di undicesimo livello una cosa simile più o meno che si vedeva per il Super Saiyan 5 e il Super Saiyan 6 per le prime bozze e quindi anche questa bozza fu scartata ma ciò non vuol dire che uscì da internet andiamo però in alto adesso con questi due Goku e Vegeta che rappresentavano ovvero su DeviantArt apparirono con la descrizione di Goku e Vegeta Super Saiyan di quinto livello però quando andarono a fare ovviamente le fanfic di Dragon Ball F e andarono a scontrarsi con la bestia Takama su cui ci ho fatto un video sempre qua sotto nella descrizione questi furono utilizzati come Super Saiyan Mystic 5 e la loro potenza è elevatissima ora però andiamo alla parte bella del video sto parlando di un altro essere che apparve su Dragon Ball F e che ci fece sognare sto parlando proprio di lui proprio questa immagine ovviamente è un Super Saiyan 5 come scrive l'immagine però non è né Goku né Broly né Vegeta non è nessuno di loro lui è Veget Super Saiyan di quinto livello ebbene sì ragazzi in Dragon Ball F questo fu Veget lo crearono così la prima immagine e questa era una delle tante immagini come quelle che avete visto fino ad ora che in Dragon Ball F non appare cioè non appaiono proprio tutte però alcune appaiono e come vi ho già detto questa è una delle tante immagini che da piccolo ci fece sognare forse la più famosa in quanto appariva quasi sempre ovunque tutti pensavano fosse Goku ma in realtà è Veget infatti se ingrandite un po' l'immagine come potrete vedere a dei tratti di Veget comunque ragazzi vi preannuncio che questo non è l'unico video che uscirà oggi ma a breve appena finirà la premiere di questo lancerò la premiere del secondo video che uscirà oggi ovvero Saitama non può battere i personaggi dei fumetti e Superman contro Thanos tutti e due in un singolo video spero che il video di queste immagini che da piccoli ci hanno fatto sognare sul continuo di Dragon Ball GT vi sia piaciuto se ne volete altri simili scrivete qua sotto nei commenti vi ricordo che poi usciranno il video di Dragon Ball F il quinto episodio Toyotaro che in realtà ha copiato Dragon Ball F e le cose che Toyotaro ha copiato a Dragon Ball F per Dragon Ball Super qui da Simone è tutto se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace iscrivetevi al canale e attivate la campanellina e le notifiche per non perdervi nessuno dei prossimi video qui da Simone è tutto qui sotto c'è il link al canale Telegram il link al profilo Instagram e quindi per oggi abbiamo finito vi ricordo di lasciare mi piace alla prossima ciao ciao